La Mezzia Terme benvenuti in Calabria Russell. Con un post sui social. Gianvito Casadone, ideatore e direttore del Magna Grecia Film Festival, ha annunciato l'arrivo all'aeroporto di La Mezzia Terme. Del celebre attore, Iu ha aggiunto Casadone il 20 giugno al Teatro Politeama di Catanzaro alle ore 21. A Catanzaro e in tutta la regione. Infatti, è atteso il primo concerto in Italia dell'attore e regista neozelandese Russell Crowe. Premio Oscar 2001 per Il Gladiatore. Nell'ambito del tour iniziato lo scorso anno. Australia. Lo spettacolo è stato organizzato per celebrare il ventennale del Magna Grecia Film Festival di Gianvito Casadonte. In programma dal 29 luglio al 6 agosto. Crowe. Voce e chitarra. Si esibirà insieme al suo gruppo. Gli. Indoor Garden Party. E sarà affiancata dalla cantante irlandese Lorraine O'Reilly. Il tour di Crowe. Dopo la tappa calabrese. Toccherà altre città italiane. Nel frattempo. Domani pomeriggio al complesso San Giovanni. Russell Crowe terrà una conferenza stampa per presentare l'atteso evento. Crowe. Che ha avuto anche due nomination l'Oscar. Nel 1999 dietro la verità Michael Mann. E nel 2001 per A Beautiful Mind di Ron Howard. Ha sempre accompagnato il suo impegno il cinema dagli anni 80 a quello musicista. Concerto sarà il primo di una serie di iniziative che verranno promosse per celebrare i 20 anni del Magna Grecia Film Festival.